ancora gli appuntamenti a torino venerdì 18 gennaio ore 21 attrazione attrarre con la legge d'attrazione e la fisica quantistica oppure legge d'attrazione quantistica la stessa cosa riferimento 3 3 3 15 11 7 0 3 torino venerdì 18 gennaio ore 21 attrarre con legge d'attrazione quantistica 3 3 3 15 11 7 0